Ricordate quello splendido film con Tom Hanks, Forrest Gump? Bene, io un po' come Forrest Gump, da vent'anni sto correndo in solitaria nel mondo dell'editoria e sto correndo in solitaria nel mondo dell'editoria per realizzare un mio sogno. Pensate, ho sacrificato tutto quello che potevo avere per cercare di realizzare il sogno di portare gli e-book in Italia e sono così eccentrico, per così dire, da aver immaginato addirittura nel 1996 che si potesse portare l'e-book in Italia. In ogni modo, dopo vent'anni l'e-book esiste in Italia per quanto mi riguarda, esiste con un catalogo di 880 titoli che hanno una distribuzione davvero globale, sono almeno in 51 paesi del mondo, sono distribuiti e venduti anche da una piattaforma proprietaria di Simonelli Editore, e-booksitalia.com E quindi è una situazione piuttosto ben avviata, che dovrebbe in altre realtà nazionali, editoriali, esistenziali, imprenditoriali di altri paesi del mondo, forse ingolosire anche qualche d'un altro. E gli anni passano, e a me piacerebbe tanto poter sviluppare ulteriormente questa realtà nell'obiettivo e nella prospettiva, che siccome per me gli anni passano, di poter passare lo standardo di questa missione dell'editoria digitale, che tra poco, tra poche settimane, si arricchirà anche degli audiolibri, sì sì, farò anche gli audiolibri Simonelli Editore, dunque mi piacerebbe condividere e sviluppare un progetto insieme con dei partner che possono essere altre realtà editoriali un po' più vispe della maggior parte di quelle che esistono in Italia nell'ambito della multimedialità e nell'ambito del digitale, oppure anche degli imprenditori i quali ritengono e dovrebbero ritenerlo questo mercato dell'editoria digitale, un mercato molto proventente, soprattutto per l'Italia, ha visto che negli Stati Uniti ha superato il 50% del mercato editoriale e in Italia si è appena al 4%, per cui non resta altro che crescere. Il seguito ai prossimi video. Grazie a tutti.